Sabato 24 ottobre dalle 9.30 i lavoratori della scuola, i rappresentanti e i dirigenti sindacali di categoria sono in manifestazione a Milano in piazza Santo Stefano per sostenere due importanti obiettivi, rinnovare il contratto di lavoro e cambiare la legge 107-2015 sulla buona scuola. Le tante criticità della legge sulla scuola vanno corrette e le professionalità del mondo dell'istruzione vanno valorizzate attraverso un contratto innovativo e l'esercizio della contrattazione. Questi sono i punti fermi che guidaranno le iniziative promosse dai sindacati in scuola per tutto il mese di ottobre.